A distanza di circa un anno sono tornate le segnalazioni di bollette definite pazze da parte degli utenti emesse dalla società acquedottistica Ruzzoreti. A denunciare questa nuova situazione in particolare è stato un nostro telespettatore che ci ha presentato il caso di sua madre anziana e disabile che si è vista recapitare una bolletta di oltre 800 euro, questo nonostante la donna viva da tempo sola. Stiamo parlando di una disabita al 100% che vive sola, che poi sarebbe mia madre, che dobbiamo aiutare noi figli a fare una doccia a settimana, una lavatrice a settimana e questo mese ha ricevuto una bolletta di 812 euro, lei prende 560 euro di pensione mensile e le bollette precedenti al sisma erano di questo tenore 550, 480, 570, adesso c'è stato un aumento di 100 volte, badate bene, non del 100%, di 100 volte, questo è ingiustificabile e quindi c'è un errore probabilmente di contabilità o di sistema, è una cosa che devono vedere loro. Tra l'altro mi sono reso conto proprio ieri andando a trovare mia madre che il contatore Ruzzo ha una perdita, ho chiamato il servizio al numero verde per vedere questa perdita qui, non risponde nessuno e non viene nessuno. Per avere delucidazioni il signor Giampietro si è recato presso lo sportello della Ruzzo Reti in piazza Garibaldi a Teramo e ha scoperto che non era l'unico ad avere la stessa problematica denunciata da lui per conto della madre. Voi fate un salto, qui all'interno dell'ufficio ci sono persone che hanno lo stesso identico problema, stiamo parlando di aumenti di 50 e 100 volte superiori alle bollette precedenti, quindi c'è qualcosa che non funziona e questo speriamo che qualcuno di competenza tra quelli che guarderanno questo filmato si attivi per vedere dov'è il problema. Quindi adesso noi figli dobbiamo fare una colletta per pagare questa bolletta qui, oppure dobbiamo chiedere la rateizzazione, ma abbiamo anche saputo che la richiesta di rateizzazione non sempre viene accolta e quindi dobbiamo vedere. Adesso io sono in attesa, sono in coda, per vedere se ci sono degli errori di calcolo, cosa di cui dubito fortemente e come fare per rateizzare questa bolletta.